Salve a tutti i watchicabari e benvenuti nel primo episodio degli extra del grande viaggio di Springtrap Questi sono tutti quanti i personaggi che ho utilizzato nella mia serie, nonché in seguito delle avventure di Freddy e Foxy Anche se ho fatto un post che ho deciso di cancellare dove vi riferivo o che non avrei fatto nessun altro video dedicato alla serie Ho deciso dopo due settimane dal finale che è raggiunto il momento di dirvi tutte quante le idee che ho deciso di scartare, cancellare della serie Dunque partiamo subitissimo perché sono tantissime e vi avverto che userò spesso i termini doveva, era previsto e così via Spero soltanto che non sia troppo fastidioso Perciò partiamo subito, ho fatto l'elenco e non c'è tempo da perdere Springtrap doveva diventare un personaggio buono solamente nel finale, quindi in tutte le puntate era un bullo antieroe Il nemico originale era Embe che doveva apparire raramente negli episodi che poi si svelava che era lui il cattivo principale E voleva uccidere Springtrap perché aveva capito che l'aveva abbandonato Già, un cattivo abbastanza banale Left e Circus Baby dovevano fidanzarsi con una coppia Circus Baby doveva fidanzarsi con un altro personaggio femmina Quindi in realtà una relazione lesbica era prevista Nightmare Bonnie doveva indossare una sciarpa E come gag divertente la perdeva in continuazione Sì, una sciarpa Chase doveva apparire in tutti gli episodi Come cane di Toi Bonnie Vi ricordate la versione precedente che è stata cancellata? Sì, Chase era il cane di Toi Bonnie Pinguino sarebbe dovuto morire in una rissa con Raffaello Fishface e Tartosso In carcere Nel primo episodio un gruppo di persone intervistavano Springtrap Dopo che tutti quanti i nuovi animatronics erano scomparsi Montgomery Gator invece di essere cattivo era per di più un personaggio che lavorava da solo Ed era un membro di un'agenzia che investigava sulle scomparse Quindi sì, un agente segreto? Oh mio Dio! Rockstar Freddy doveva morire in carcere Sucidandosi dopo lo scontro con Lefty Nella serie si è dovuto apparire anche Toy Chica Come fidanzata di Toi Bonnie Questo accadeva per di più durante il viaggio Quando Toi Bonnie era un bambino Infatti nell'episodio finale si vede Toy Chica che frequenta gli elementari È lì vicino a Picchiarello, se lo notate, era quella là Una scena iniziale vedeva Toy Bonnie che faceva un vlog Parlando di Springtrap Nightmare Freddy e Nightmare Bonnie come scena introduttiva I due poliziotti Chase e Judy Hobson non erano i poliziotti originali Anzi loro invece Chica e Little che poi è diventato un aiutante di Freddy E anche Topolino Sì, personaggi divertenti per di più Nightmare Freddy al post di Nightmare Bonnie doveva saltare per proteggere i Toy Bonnie Nell'episodio quando incontra Montgomery Gator c'è lo scontro per prendere il radar Ma il problema è che Nightmare Freddy moriva Nell'episodio 10 era previsto che Springtrap parlava con un giudice Dove gli spiegava che lui non era l'assassino di Phantom Freddy e Bon Bon I membri dell'Oxtel Enterprise dovevano apparire dopo che Rockstar Freddy arrivava in prigione Ma il problema è che sono stati scartati fin da subito O meglio, già nella versione precedente erano praticamente super mega inutili Quindi, via, non li ho messi La morte di Circus Baby, invece di essere lei che mi ha strozzata da Rockstar Freddy Era invece un combattimento tra i due Montgomery Gator non doveva trasformare Rockstar Freddy con delle droghe in un suo burattino Bensì era proprio Rockstar Freddy che uccideva Circus Baby Che brutto bastardo Vari flashback con Springtrap e Ballora erano previsti Oltre anche tantissime canzoncine dove i personaggi cantavano Soprattutto una scena in una specie di supermercato dove The Bonnie chiedevano ai my friend and my Bonnie di prendere la marmellata E loro cantavano una canzone sulla marmellata Con la base musicale di Outlet Cocco di Mario Cartui Chase e Judy Hopps avrebbero avuto una relazione romantica Sì, vari personaggi Per esempio dei pupazzetti di Star Wars che apparivano nei credit della versione precedente Dovranno apparire come comparse Una scena importantissima avrebbe dovuto rivelare il passato di Lefty E come era diventato cieco In realtà era previsto che Ned and Fredmer, Bonnie e Lefty Rimanevano con Springtrap e due Bonnie e Montgomery Per cercare M.B.E. Sì Springtrap come ben sapete nella versione precedente Sì era il protagonista Ma appariva per di più come un personaggio secondario Infatti doveva esserlo per di più Avevo deciso di pensare per di più Ai personaggi secondari rispetto al protagonista Però comunque Mai rendere il personaggio principale Uno secondario Perché se no si capisce mai chi è il protagonista Non so se avete capito Molti più personaggi sarebbero dovuti morire in questa serie Ma l'idea è stata cancellata Perché se moriva ogni personaggio ogni volta S'è stato abbastanza problematico Se fosse stata una storia diversa magari è Interessante? Non ne ho idea Le lezioni di Mer Fred Dovranno apparire in tutte quante le puntate Vi ricordate che nella versione di prima Nei Mer Fred Faceva quelle lezioni O meglio Parlava con il pubblico Rompeva la quarta parete Quello che avete capito Ecco Montgomery Gator avrebbe visto Rox and Wolf Durante i suoi sogni Proprio come Springtrap che vede Puppet e Ballora In un episodio Toe Boni andava a scuola Accompagnato da Springtrap Twisted Wolf era previsto Che appariva Nell'episodio dove Springtrap, Montgomery e Toe Boni Trovano Embe Toe Boni in primo punto Sbagliato Ed Embe Fa ritornare solamente un solo Membro di quelli scomparsi Cioè Twisted Wolf Le sigle iniziali Avevano come protagonisti Tutti quanti personaggi E vai L'idea introduttiva Dove Springtrap E vari personaggi Dicevano loro opinioni Su quello che accadeva E' stata poi cancellata Nei episodi finali Della serie principale Perché A un certo punto Ritenevo che era abbastanza Stubido continuare in questo modo Nightmare, Freddy e Boni Si lasciavano Dopo una litigata Il personaggio De Emer Freddy Sarebbe dovuto apparire In solamente sette episodi Montgomery Gator Doveva essere introdotto In una scena Di inseguimento In auto Dove provava A inseguire un membro Dipendente Della Rosa Rossa Il personaggio Di Fish Face Sì Avrebbe avuto Una specie Di cotta Per Raffaello E dopodiché Si fidanzavano Al posto Del radar Come strumento Per trovare Mbè C'era invece Una sottospecie Di palla tecnologica Di Fante Freddy Bonbon Una sottospecie Di versione alternativa Di Fante Freddy Bonbon Va a apparire Dopo la loro morte Cercava di avvisare Che Per via Che sapeva già Cosa accadeva Nel futuro Voleva avvisare Sprintra Per Tue Bonni Che Montgomery Era cattivo Cancellata Perché era Un casino Totale Il compleanno Di Tue Bonni La sua festa Era previsto In uno dei primi Episodi Della serie Quindi adesso Dovervi elencato Tutte Le idee Sui personaggi Sui episodi Quello che Avrebbe dovuto Accadere E via dicendo È un casino Allucinante Voglio informarvi Dei finali Alternativi Per di più La serie Il grande viaggio Di sprint Aveva concludersi O Con l'episodio 15 O Con l'episodio 16 Ecco a voi I 5 finali Finale Alternativo Episodio 15 L'ultimo Atto Al posto Di morire Sprintrap Era Tue Bonni Che crepava Ucciso Da Montgomery Gator Anche lui Moriva Dopo che Aveva lottato Contro sprint Ma prima di questo Sparava il povero Tue Bonni Prendeva il telecomando Accendeva Embè E lui riportava Tutti quanti A casa Solo che Cica Bonni E gli altri Vedevano che Sprintrap Era vicino Al corpo Di Tue Bonni E quindi Accusavano Sprintrap Della morte Di Tue Bonni E la scena finale Vedeva lui Che era finito E nuovo in carcere Un finale Molto drammatico Per di più Sempre L'ultimo atto Sprintrap Vedeva Che aveva fatto E ogni cosa Della ventura di Freddy Foxy Perché come ben sapete Nella ventura di Freddy Foxy Sprintrap Prende Delle medicine Da mister Ippo Quindi Sprintrap È stato Preso dai poliziotti Dopo che Dopo che aveva ucciso Puppet E si doveva apparire Anche una scena Di Puppet Che veniva uccisa Da Sprintrap E Sprintrap Passava Tutta la sua vita In questo Ospedale Psichiatrico E Tutti quanti I personaggi Che avete visto Sono in realtà Dei dipendenti Di questo Luogo Oppure Pazienti Un bordello Un mind assurdo Idea cancellata Perché era troppo L'episodio 16 La vede il futuro Toe Bonnie Sì Simpatico Allegro No Perché prima In questo finale Era previsto Che era maleducato Antipatico Scontroso E alla fine Uccideva Con un colpo di pistola Twisted Wolf Senza dir niente Sui genitori Un tipo abbastanza Bastardello Per di più Nell'episodio 15 L'ultimo atto Montgomery Gator Veniva ipnotizzato Da Puppet E lei lo controllava Come un burattino Quindi sì Nella battaglia finale Si scopriva Che Puppet In realtà La cattiva principale Oltre a Montgomery Gator Che vogliono entrambi Uccidere Springtrap Sì Colpi di scena assurdi Oppure Episodio 16 Era previsto Che era ambientato Invece di stare Tipo 9 anni dopo Nel futuro Bensì una settimana dopo Dove Freddy Bonnie Cicato E Bonnie Eccetera Erono testi Per la morte Di Springtrap Toe Bonnie Spiegava Quello che era Accaduto E si concludeva La scena finale Con Toe Bonnie Che era cresciuto E parlava con Emer Friend Emer Bonnie Dopo che erano Ritornati Dal loro viaggio Quindi Quindi gente Queste sono tutte Queste sono tutte quante Le idee Cancellate Scartate Del grande viaggio Di Springtrap Io vi avverto Ne ho tolte Troppe Per di più Non riferente Ai personaggi A Le loro avventure E via così Ci sarà mai un seguito? Non ne ho idea Dipenderà Da cosa Mi inventerò E se Nel 2023 Potrò farlo Quindi ragazzi Questo è tutto Per questo video Extra Del grande viaggio Di Springtrap Spero vi sia piaciuto Dite nei commenti Cosa pensate Di queste idee Scartate Oppure Se preferivate Vederle Non ne ho idea Ma per di più Avete capito Che i finali Erano veramente Molto tragici Ma forse Interessanti Per di più Quello che considero Migliore È O La prima Idea scartata Del finale Oppure Quello che Tutto quanto Nella mente Di Springtrap Ai 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 Magari da queste Descartate Forse potrò Ricavare qualcosa Per il futuro Non ne ho idea Quindi Noi ci vediamo Alla prossima Ciao ciao